Investe un uomo che camminava sul ciglio della strada, si accorge di quanto accaduto ed è anche consapevole dell'impatto violentissimo, ma invece di fermarsi a prestare soccorso decide di procedere dritto in preda al panico. L'uomo, un tunisino di 48 anni, è morto sul colpo, mentre il suo investitore, dopo circa un'ora, ha deciso di consegnarsi spontaneamente ai carabinieri. E quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 19, sulla strada comunale Bufali-Marza, nelle campagne espicesi, un giovane di 21 anni, di origini catanesi, ma impiegato in una ditta della zona, è stato deferito alla procura di Ragusa per omicidio stradale, aggravato dalla fuga del conducente. Il giovane catanese al volante del veicolo Iveco, di proprietà della società per la quale lavora nel settore ortofrutticolo, ha infatti travolto e ucciso sul colpo un uomo extracomunitario che camminava sul ciglio della strada e che con molta probabilità stava facendo rientro dopo la giornata lavorativa nei campi. La vittima, di 48 anni, di origini tunisine, è morta sul colpo. Inutili si sono rilevati i soccorsi da parte del 118, intervenuto sul posto. Intervenuti accanto ai medici e alla polizia locale, anche i carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce del pirata della strada, lo stesso che dopo quasi un'ora dall'incidente si è consegnato alla stazione di Ispica. L'uomo è anche stato sottoposto ad accertamenti sul tasso alcolemico che hanno dato subito esito negativo. Al termine delle operazioni, il giovane è stato deferito a piede libero alla procura di Ragusa che ha avviato un fascicolo da parte del PM di turno. La samma del bracciante agricolo è stata restituita ai familiari.